bello tanto come potremmo svidere ammo su piazzato su mozzo sempre con su mattesi estrattori quando non vi vedi questo abbiamo soccato con questo bullone che non vi vedi dei su semi asse e ammo su piazzato su mozzo con la dimensione dei su estrattori potete essere su estrattori dei su mattesi del suo cuscinetto facendo attenzione che questo è questa parte in oga alla stessa dimensione dei su semi asse e l'hanno su posto in drento in oga l'hanno su posto in drento in oga è il satteru che sta più in mano su mozzo l'hanno su posto con un spingio mozzo su mozzo, quindi dei su estrattori quindi l'hanno su posto che zonare i ragazzi come ti ho fatto i direni allora, questo quindi questo questo quasi è l'hanno su posto a questa perra però i testi è su più grosso questa dimensione adesso su cuscinetto questo è più grosso e spingiti tutto su su mozzo così è da voi bifidi questo in drento è a costa della verra a costa della verra a muso posto costo che ha da se mattesi di messione del suo cuscinetto ok gasire 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 quindi custo in spingia il suo cuscinetto e custo in spingia il suo mozzo la muso posto è da voi siccome belte su semiasse su semiasse in oga con il suggiunto chi fa che le pressioni con il suo mozzo e teniti teniti liata su cuscinetto che vada in drento con il suo mozzo che è stato in oga ok da voi per sicurezza vald'essere su disco e su freno che dà che te con sta pinza quando la mosse a piazzare in suo disco e su freno una maggiore sicurezza in più però quanto riguarda sa stabilitate sa stabilitare il suo mozzo quando andiamo a piazzare la pinza con il suo disco e il suo freno ok ok non sa piazzare il gas ok